Musica Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere con noi Lodovica Mutterle, che è la direttrice della Casa Museo Giacomo Matteotti a Frattapolesine, provincia di Rovigo. Questa è un'ulteriore puntata dedicata ad una parte del territorio che, ricordo sempre, a mio parere, ingiustamente, viene considerata un po' zona depressa, un po' il basso Veneto. Parlo zone tipo Cavarzere, Piove di Sacco e naturalmente il Polesine. Ed è un errore straordinario, perché invece sono tutte zone, innanzitutto, ricche di molta cultura e di molta cultura che nasce dal popolo. Quindi cose che altrove, in realtà più conclamate, più citate, non si trovano. Andate, ad esempio, in Polesine e le trovate. Frattapolesine è una di queste chicche. Abbiamo parlato in altra occasione del Maneggium, questo straordinario esempio di associazione per la promozione del territorio, ma Frattapolesine ha avuto, si dice inizio, insomma, la carboneria. A Frattapolesine ha vissuto Giacomo Matteotti, una figura del socialismo italiano, che magari, insomma, in questo periodo si tende un po' a dimenticare, ma che è stata determinante, importante, fino al sacrificio della propria vita, per salvaguardare, insomma, la nostra democrazia. Lui venne ucciso, forse la vittima più eclatante, insomma, del periodo fascista. E a Frattapolesine è stato trasformato in museo la casa dove abitava la famiglia Matteotti, e la cosa straordinaria è che, come altre esperienze del territorio, vive fondamentalmente sul volontariato. È un museo nazionale, però la stessa direttrice lo fa a titolo gratuito, e credo che anche questo sia un merito che vada a scritto. Oltre a lei ad essere una ovvia, profonda, conoscitrice, insomma, della storia di Giacomo Matteotti. Quindi a lei la parola per raccontarcelo. Allora, Giacomo Matteotti nasce a Fratta nel 1885. Non nasce nella casa, oggi, casa museo. Nasce in una casa vicino alla Villa Badoera. Perché la famiglia... È un altro monumento storico. È un altro monumento che fa parte dell'UNESCO, quindi... Un altro monumento che adesso è della provincia. Perché Fratta, appunto, ha questa varietà, questa ricchezza. Nasce in questa casa, la famiglia Matteotti arrivava dal Trentino, esattamente da Comasine, dalla Val di Peio. Si sono stanziati in Polesine alla metà dell'Ottocento. Erano prevalentemente commercianti di ferro e rame. La casa, la casa museo, è stata acquistata dal padre Girolamo, che è stato anche lui amministratore nel primo consiglio comunale dell'Unità d'Italia, dall'Unità d'Italia. Ha acquistato questa casa a pezzi, perché era già nel Catasto Veneziano un condominio, e diventa di proprietà totale, complessiva, della famiglia Matteotti nel 1895. Quindi Giacomo Matteotti non nasce qua, ma vive gran parte della sua vita. Gran parte della sua vita che aveva speso al liceo classico Ceglio di Rovigo, dove aveva iniziato i suoi studi, e poi aveva continuato a Bologna, ottenendo una laurea in giurisprudenza, con stoppato. La sua carriera sarebbe stata una carriera sicuramente nell'ambito universitario. Più di una volta gli hanno proposto questo, perché la tesi di laurea, la recidiva, è stata poi edita nel 1910. Ed è nel museo. Ed è nel museo, e si può vedere proprio nel suo studio, vicino allo scrittorio. Il, oltre a questo, inizia però giovanissimo ad avere questa passione per la politica. Una passione che non nasce per caso. Qui si iscrive ragazzo al Partito Socialista? Sì, 14 anni, si iscrive al partito. Al partito sollecitato da suo fratello Matteo. Fratello Matteo che, anche lui, un brillante studioso, impegnato a livello politico, era stato apprezzato perfino dallo stesso Inaudi, per le sue tesi, per i suoi saggi e i suoi studi. Inizia quindi, molto giovane, questa carriera e la porterà a termine fino alla fine. Mi piace ricordare che, proprio nel 1919, inizia la sua carriera parlamentare. Quindi, 200 anni da oggi, inizia la sua carriera parlamentare a Roma. Inizialmente, fa parte del collegio di Ferrara Rovigo, perché a quell'epoca, con la legge proporzionale, erano stati fatti di nuovi collegi. Poi, rieletto nel 1921, e poi nell'aprile del 24. Aprile 24, e dopo qualche mese, un mese e mezzo, abbiamo la sua tragica fine. I suoi interessi prevalenti sono stati sempre, perché aveva questo forte senso della politica come servizio etico per gli ultimi. E gli ultimi, nel nostro territorio, come Adolfo Rossi aveva descritto nei suoi interventi, erano i braccianti. I braccianti erano una condizione, diciamo, parlare di miseria e dire poco. Vivevano in topaie, in catapecchie, vivevano insieme agli stessi animali. C'erano molte malattie dovute alla mancanza, appunto, di igiene e sanità. Ecco, ma la grandezza dell'uomo, a mio parere, è data ad alcune immagini che ho visto visitando la Casa Museo, ed è il periodo tra il rapimento e poi la scoperta del cadavere. Cioè il pellegrinaggio di persone che si recò sul luogo del rapimento, insomma. Eh sì, ci sono diverse immagini. E poi ovviamente la grande folla al funerale, ma insomma, erano i tempi del fascismo, era rischioso esporsi. Sì, ci sono diverse immagini, proprio queste immagini, queste foto, che si possono vedere in Casa Museo, ma fanno parte dell'archivio della famiglia che è conservato dalla Fondazione di Studi Storici Turati, a Firenze, mettono in luce come da subito, dal momento che è stato rapito e ucciso, la gente abbia capito, abbia voluto considerarlo un santo laico. Infatti, diverse sono le foto in cui si inginocchiano davanti al luogo dove è stato rapito. Da questo momento in poi iniziano quelle ricerche, in parte fasulle sul lago di Volsena, eccetera, fino alla scoperta, si dice casuale, ma in realtà non lo è, del 16 agosto del suo corpo, trovato per caso nella macchia della Quartarella, in una zona vicino a Riano. Qui il suo corpo era stato posto in una fossa molto più piccola della sua altezza, della sua lunghezza del corpo, era stato piegato in due parti, quindi le gambe erano vicino alla testa, non aveva neanche più un po' di carne, perché? Perché gli animali non avevano coperto bene il corpo e gli animali avevano mangiato la sua carne. Questo è stato scoperto, è stato posto quindi nella camera mortuaria del luogo e la moglie è andata per riconoscerlo. Si dice appunto che sia stato possibile farlo, perché? Per i denti, per la sua appunto... mantiene sempre il rapporto con il Polesine, Matteo P? Sempre. Possiamo dire che era il leader del territorio, una cosa che oggi viene poco sentito, o almeno non tutti seguono, questo rapporto col territorio che lui aveva costantemente. Si è interessato infatti al territorio in vario modo, ma soprattutto per cercare un riscatto di quel territorio a livello culturale, perché lui pensava che la cultura, la scuola fossero strumenti prima di quelli economici per dare una dignità ai lavoratori, alla gente. Personalmente insegnava come leggere i bilanci comunali, come creare queste nuove figure che potevano amministrare i vari comuni. Aveva anche proposto delle gite culturali cui lui stesso era guida. Mi ricordo a Ferrara per esempio, la storia ricorda questo. Questo concetto della cultura, questo concetto del territorio, questo amore per le persone sono stata una connotazione che rendono questo leader un leader a mio avviso attuale, di una certa attualità in cui a parte i valori che con la sua morte sicuramente segna nella storia d'Italia ma soprattutto anche col concetto di democrazia solidarietà giustizia sociale libertà individuale lo rendono un personaggio sicuramente di primo piano non solo a livello nazionale. Tra l'altro indefesso nei valori perché lui ricevette più volte minacce perché lui rappresentava in qualche maniera il polesine rosso ma c'era anche un polesine nero molto forte perché appunto 200 anni fa proprio nascevano a Milano i fasci di combattimento e lui fu più di una volta appunto fatto oggetto di percosse e di violenze tanto che l'ultima avuta il 12 marzo del 1921 a Castel Guglielmo è stato costretto poi ad allontanarsi definitivamente dal polesine perché le minacce non erano solamente a lui ma anche alla sua famiglia e ai suoi figli quanto orgoglio c'è nelle sue parole perché io dicevo prima che lei lo fa a titolo di volontariato però va detto che il museo la Casa Museo è un museo riconosciuto a livello nazionale è un monumento nazionale e Loredana Mutterle non lo fa perché ha detto beh sono qua ma perché è stata scelta cioè viene incaricata una persona perché ha delle determinate caratteristiche di fare il direttore vabbè a titolo gratuito che devo dire è una singolarità certo è una cosa molto molto particolare diciamo all'interno della nostra realtà però è una cosa che mi appassiona e lo dico mi appassiona tutto quello che è storia del mio territorio perché credo che in ogni persona che crede nella propria terra debba impegnarsi in qualche modo per renderela conoscibile promuoverla valorizzarla e questo io lo trovo un ambito per me per il mio carattere per la mia cultura molto importante grazie signora grazie per il suo impegno per fortuna ci sono persone come lei grazie a Loredana Mutterle che ricordo essere Lodovica Lodovica le chiedo scusa Lodovica Mutterle che è la direttrice della Casa Museo Giacomo Matteotti di Fratta Polesine se qualcuno non conosceva la figura di questo importante statista del nostro paese insomma adesso ha un motivo in più per sapere chi era Giacomo Matteotti e per frequentare Fratta Polesine il museo vale la pena di una visita grazie buon lavoro a voi la prossima grazie a tutti mi fa altrimenti non 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 Grazie a tutti.